Ben ritrovati al Notice di Antenna 3. Vediamo subito insieme come sempre le curiosità di oggi. Nel 1869 venne brevettata la motocicletta. Un motore a vapore monocilindrico applicato tra la sella e la ruota posteriore di una bicicletta. Nacque così il velocipede, primo prototipo di motocicletta della storia, brevettato dall'ingegner francese Louis Guillaume Perrault. Alimentata ad alcol, petrolio oppure olio per le lampade e con una velocità massima di 16 km orari venne prodotta dallo stesso inventore in 5.000 esemplari al prezzo di 3.000 franchi. Per il primo progetto di motocicletta con motore a combustione si attese in 1879 quando un ingegnere italiano, Giuseppe Murnigotti, depositò il brevetto a Roma. Il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a scoprire l'origine di due cognomi molto diffusi in Veneto. Il primo è Schiavon, dovrebbe derivare dal termine veneto Schiavoni che stava ad indicare gli Slavi. Erano i soldati mercenari della Repubblica Veneta perché la maggior parte erano provenienti dalla Slavonia e con il loro nome rimase chiamato anche il molo più importante di Venezia, riva degli Schiavoni appunto. La maggiore concentrazione di questo cognome è nella provincia di Padova. Il secondo cognome che scopriamo oggi è Visentin. L'origine è etnico-geografica. Appare infatti che derivi dal termine dialettale Veneto usato per indicare i Vicentini. Tracce di queste cognomizzazioni si trovano addirittura in un atto processuale del 1614 a Venezia. È un cognome tipico, come detto del Veneto, particolarmente diffuso nel Trevigiano. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie per la visione.